RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale, ascoltaci. Eccoci di nuovo qua, come dico io il più cordiale ben interconnessi giunge a tutti quanti voi da parte mia Roberto De Angelis, torna a ricette alla radio che ha avuto illustri passati, c'è la ricetta dedicata al pesce che ha veramente sbalordito tutti. Ricetta alla radio poi è un sistema molto antico perché si deve ascoltare, poi se si vuole approfondire e vedere ci sono siti con fotografie e filmati che fanno vedere appunto la preparazione. Oggi parliamo di ricetta di involtini di melanzane a crudo al forno, light, veloci, facili, non fritti, digeribilissimi e quindi questi involtini di melanzane che poi diventano dei bocconcini prelibati, leggeri, soprattutto sbrigativi, ripieni volendo di mozzarella, prosciutto cotto, pomodoro, ricoperti di una panatura leggera e molto gustosa. Poi l'involucro interno degli alimenti lo decidete esclusivamente voi. Noi adesso vediamo chiaramente una preparazione classica, la difficoltà è bassa, il costo molto economico, il metodo di cottura è il forno, per preparare questi involtini di melanzane ci vorranno 15 minuti, tempo di cottura 30 minuti, la base è la cucina italiana, la migliore nel mondo secondo me. Le porzioni sono per sei persone e anche se siete due, moglie e marito, fidanzato e fidanzata, conviventi, insomma pure siete in due. Preparatele per sei persone, datemi retta. Allora gli ingredienti occorreranno due melanzane, due fette di prosciutto cotto, quello buono mi raccomando, quello rosa chiaro col grasso intorno per capirci, 50 grammi di mozzarella, 150 grammi di pan grattato, due grandi pomodori e olio di oliva extravergine, per me non filtrato, poi se lo volete filtrato quanto basta, olio di oliva di prima qualità mi raccomando. Vediamo un po' la preparazione, bisognerà lavare le melanzane, eliminare le estremità e tagliarle a fette molto sottili, di mezzo centimetro. Prendiamo il centimetro del sarto? No, facciamo a occhio, però devono essere sottili. Dopo di che si dovrà tagliare sempre a fette sottili, pomodori e mozzarella. In un piatto versare l'olio extravergine di oliva e in un altro mettere il pan grattato. Adesso bisognerà adagiare bene le fette di melanzane prima nell'olio e poi nel pane, premere con le mani per farlo aderire bene, posizionare le fette su di un piano e farcirle ognuno con una fetta di pomodoro, una di mozzarella e il prosciutto cotto. Qualche chicchetto di peperoncino li ho filizzato ma poco, magari ci sta anche bene. Arrotolare su se stessa la fetta e chiuderla con lo stuzzicatenti. Proseguire così con tutti gli ingredienti. Dopo che avremo finito la preparazione dell'interno di questi involtini di melanzane, dovremmo disporre i medesimi gli involtini in una teglia unta di olio extravergine d'oliva, condire con sale e olio tutta la superficie, quindi mi raccomando tutta la superficie dovrà essere condita con sale e olio e infornare a 180 gradi per circa 30 minuti. Gli esperti ci dicono 27, 30 minuti a 180 gradi secondo me vanno molto bene. E allora eccola qui, la ricetta involtini di melanzane a crudo al forno light, veloci, facili, non fritti e chi più ne ha più ne metta, è pronta. Buon appetito! Chiaramente noi ringraziamo anche i manicheretti di nonna Lella che ci hanno dato l'indicazione di come preparare questa gustosa ricetta che credetemi è leggerissima e nutriente, molto saporita, anche perché noi, vi ripeto, vi abbiamo diato gli ingredienti base, per esempio c'è Luisa che mi dice, mio merito ama molto di più il peperoncino, lei ha detto soltanto una leggera spruzzata, io do un consiglio di una leggera spruzzata, poi se volete abbondare col peperoncino oliofilizzato dentro l'involtino di melanzana o i chicchi di peperoncino fresco che sia, fate pure. L'importante è che poi gradite quel sapore pungente del peperoncino dentro la melanzana, mi raccomando. Qualcuno mi dice, si può mettere il pepe nero? Secondo me sì, però chiaramente, attenzione, si avranno sapori diversi rispetto all'originale, poi si può rendere anche la panatura più gustosa aggiungendo origano, aggiungendo aglio tritato, pomodorini tagliati a pezzettini piccolissimi e via discorrendo, però la ricetta è proprio questo. Ripeto gli ingredienti, due melanzane, due fette di prosciutto cotto, mi raccomando quello di alta qualità, 50 grammi di mozzarella, 150 grammi di pan grattato, due pomodori grandi, olio di oliva extravergine filtrato o non filtrato, quanto basta, avere stuzzicadenti a disposizione e una teglia dove preparare il tutto. Buon appetito con gli involtini di melanzane. Ragazzi, cioè io la dovevo solo leggere questa ricetta, adesso la vado a preparare, perché davanti a una ricetta simile non posso dire di no. Ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto al prossimo appuntamento di Ricetta alla Radio su RDA Radio 1, Radio Associativa No Profit, su Springer, YouTube, Twitter, Spotify, Free. Il podcast è Ricetta alla Radio ed è anche una playlist di YouTube, il canale è sempre RDA Radio 1. Per quanto ci riguarda è tutto, un saluto da Roberto De Angelis. Grazie a tutti.